rosa linda è veramente disperata fa veramente caldo a nono mese di gravidanza ai piedi gonfissimi e poi c'è lui che si è abbronzato tantissimo stanno tintarella pazzesca ottimo se preferisce alternato mamma sulla repubblica a ragione fa molto caldo e lei a nonno mese di gravidanza è veramente difficile per lei tanti tanti auguri dai